Quest'anno a Space Interiors ho realizzato l'allestimento per la nuova gamma di maniglie timeless di Salice e Paolo. Sono modelli né classici né moderni, quindi ho pensato di valorizzare al massimo quella che credo sia una delle loro caratteristiche principali, cioè quella di essere adatti ad ambienti di epoche e stili diversi. Nell'allestimento però tutti i modelli sarebbero stati esposti nella stessa finitura nickel lucido, quindi ho pensato di realizzare dei mobili stilizzati, senza uno stile preciso, rifliti su ogni faccia con un'essenza di legno diversa. Questa soluzione da una parte ha un certo impatto estetico e dall'altra gioca con la curiosità del visitatore che è spinto a guardare e giudicare su ogni faccia degli espositori la bontà o meno degli abbinamenti proposti. Poi ho voluto inserire un elemento particolare, questo vecchio televisore modificato con un tablet apposto del monitor che fa vedere il video di presentazione della gamma per avere un elemento sospeso e trapassato e presente. Volevo infatti che l'esperienza nello stand fosse il più possibile stimolante e rilassante al tempo stesso. Grazie a tutti.